questa sequenza è dedicata alla purificazione viene anche chiamata di twist o torsione da eseguire soprattutto alla mattina a presto a digiuno migliora le funzionalità del fegato inspiriamo portiamo le braccia al di là del capo uniamo i palmi lo sguardo alle mani avviciniamo il mento alle ginocchia inspiriamo saltiamo portandoci nella postura di una tavola inspirando ci inerchiamo quanto è possibile espirando spingiamo il bacino verso l'alto inspirando portiamo avanti la gamba destra ci solleviamo uniamo i palmi delle mani ci porteremo in una torsione verso destra la torsione si amplifica tanto quanto le mani restano immobili al centro tra un seno e l'altro non si spostano manteniamo tre respiri espirando rilasciamo le mani a terra riprendiamo la sequenza a terra i gomiti sono ben vicino al corpo ci inarchiamo quanto è possibile spingiamo via il bacino l'inspiro che sopraggiunge ci porta con il piede sinistro avanti tra le mani riprendiamo la stessa sequenza sul lato sinistro i palmi ben uniti la torsione parziale o completa manteniamo qualche istante espirando rilasciamo le mani ai lati dei piedi ci portiamo nella postura di una tavola inspiriamo nella postura di un serpente inarcando quanto è possibile espiriamo portiamo su il bacino spingiamo bene gli schi intervertebrali verso l'alto manteniamo la postura a tre tempi inspirando sguardo avanti saltiamo a piedi uniti all'altezza delle mani ispirando avviciniamo il mento alle ginocchia inspirando ci portiamo con le braccia al di là del capo i palmi uniti lo sguardo alle mani ispirando rilasciamo le braccia lungo i fianchi riprendiamo la sequenza per cinque volte